C'è stato quel periodo in cui si diceva che tu saresti passato alla Formula 1, era vero o erano dei rumors? Era vero nel senso che nel 2004 quando ho vinto con la Yamaha Stefano Domenicali mi ha chiamato e mi ha detto ti devo far provare la macchina e l'ho detto va bene e siamo andati a Fiorano a provare la macchina sono stato piuttosto veloce e ho girato sotto il minuto che diciamo che in quei tempi i meccanici facevano le scommesse per quelli che anche con me mi hanno detto dopo e diceva zera era sopra o sotto il minuto? Era quella la scommessa e ho girato 59.1 quindi sotto il minuto e gente ci ha perso e quindi abbiamo continuato perché ha detto dai la riproviamo anche un'altra volta poi sono andato a Mugello e poi ho fatto un test vero a Valencia e lì ho dovuto scegliere la possibilità era di provare in Formula 1 e non correre subito con la Ferrari ma correre con il Team B che era la Minardi diciamo e poi se fossi stato abbastanza veloce passare sulla Ferrari ecco però